salva un amico ben ritrovati a questo nuovo appuntamento siamo al parco canile empa di monza siamo con stefano e con la piccola minni come è arrivata in canile minni fa parte di una cucciolata che è stata trovata in giro e noi abbiamo accolto qualche cucciolo per trovargli casa ecco ti sei seduto perché lei è una cucciolata bella vivace insomma è molto vivace ha voglia di correre di saltare deve imparare delle buone maniere deve ancora fare tante esperienze quindi diciamo che il contesto ideale è qualcuno che le faccia scoprire il mondo esatto ha bisogno di tante esperienze l'avete trovata in strada giusto insieme ai suoi fratelli erano in giro probabilmente una cucciolata indesiderata e ancora si verificano queste situazioni meno per fortuna ma ogni tanto capita che qualche cucciolata non abbia una casa in realtà e quindi gliela cerchiamo noi la vediamo già bella grande a circa cinque mesi dunque diventerà una taglia grande prevediamo una taglia grande a vedersi ha dentro qualcosa del pastore mare in mano quindi si parla di dimensioni importanti anche di un carattere importante quindi è decisivo che la famiglia che decide di farsi carico di questo cane gli dia le giuste competenze gli faccia conoscere appunto alla vita com'è e come sarà nel suo nuovo contesto dunque è meglio avere una famiglia magari non alla prima esperienza con un cane forse meglio e poi di sicuro che abbiano il tempo e la voglia di dedicarci perché è una fase importante della vita e quindi se si segue bene adesso da grande sarà un ottimo cane perché diciamo deve imparare ancora a tutto assolutamente qual è il suo rapporto con gli altri animali con gli altri animali è molto socievole è vivace come vedete docile con tutte le persone è data la sua fisicità potrebbe spaventare qualche altro cane se magari lei o anche coi bambini magari un po di attenzione perché lei è buona però potrebbe travolgere animali o bambini più piccoli quindi insomma è meglio una famiglia senza bambini troppo piccoli troppo piccoli no comunque con sempre attenzione qualche riguardo quindi è una famiglia anche senza altri animali in casa diciamo comunque deve essere testata insomma qual è il percorso che sta seguendo in canile lei sta facendo appunto delle esperienze sta imparando ad andare a guinzaglio deve imparare a mantenere la calma e deve conoscere soprattutto deve conoscere adesso le facciamo incontrare altri cani abbiamo anche il gattile conosce gatti di modo che sappia come comportarsi nelle varie situazioni insomma sta facendo delle esperienze in canile ma speriamo che in canile passi il meno tempo possibile ce lo auguriamo dunque speriamo davvero che minni trovi presso una famiglia per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il parco canile empa di monza al numero 039 835 623 oppure inviare un'email a canile at empamonza.it un'email a canile 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 un'email a canile